Salve a tutti, in questo video vediamo come realizzare un effetto di nebbia come questo. Vediamo come era prima la foto. Ecco qua. Quindi eliminiamo tutto e cominciamo. Allora, prima di tutto duplichiamo lo sfondo, quindi tasto destro, duplica livello. Ok. Adesso dobbiamo creare un nuovo livello, quindi andiamo qui. Nuovo livello. E dobbiamo abilitare la maschera veloce qui sulla sinistra. In questo modo. Adesso andiamo in filtro, rendering, nuvole, indifferenza. Ed ecco fatto. Togliamo la maschera veloce ed ecco quello che appare. Adesso dobbiamo andare in modifica, riempi, contenuto bianco. Ok. Ed ecco che abbiamo riempito le nuvole di bianco. Allora, adesso sullo sfondo copia, torniamo qui, mettiamo un metodo di fusione luce soffusa. E adesso facciamo selezione, deseleziona sul livello e lo duplichiamo. Quindi tasto destro, duplica livello. Ok. A questo punto qui le cose cambiano in base al vostro effetto. Quindi lo ingrandite un po' come trasformazione. Vedete qua, portandoci qua sul selettore, lo ingrandiamo e lo spostiamo. L'immagine deve rimanere all'interno, quindi lo spostiamo e cambiamo un po' l'opacità. Quindi da 100 lo portiamo ad esempio a 91. Lo duplichiamo ancora, quindi tasto destro, duplica livello. Ok. Lo spostiamo di nuovo. Lo riduciamolo oppure lo ingrandiamo come preferite. Ed ecco che si crea questo effetto di nebbia. Quindi qui a questo punto dipende un po' da voi. Potete cambiare l'opacità di tutte e tre i livelli a seconda di quanta nebbia volete. Quindi ritoccate questi valori fino a raggiungere il vostro effetto preferito. Un saluto a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.